Grazie a tutti. E' morto. Io non so cosa aggiungere. Sinceramente per me era come un nipote, come un fratello. Con lui avevo un rapporto speciale e purtroppo è andato così. Queste sono le corse di moto purtroppo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A volte anche noi magari rischiamo di impegolarci. Carezze, buonsenso, ironia e generosità. Questo qui era Marco Simoncelli e credo che ci sia parecchio da imparare su come si sta al mondo anche in questo posto qua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.